Gianfranco Bellini, Presidente della Mostra Nazionale del Fumetto di Città di Castello, fervono i preparativi per l'edizione 2015. Quest'estate mi hai anticipato qualcosa, oggi però vogliamo scendere nei particolari, Gianfranco. Allora, sì, ti ho anticipato un paio di mesi fa, dandoti il nome, il titolo, diciamo così, della mostra, Tex d'Autore. E adesso entriamo un pochino nel merito, stanno fervendo i preparativi, gli amici stanno lavorando sul quadrilatero in maniera pazzesca perché la disposizione delle sale è all'ultimo minuto, da un'altra parte stiamo lavorando per la parte, diciamo così, del catalogo, dei Deplian, eccetera, da un'altra parte per gli inviti alle persone, voi lo capite bene. Perché Tex d'Autore? La nostra mostra è nata 13 anni fa con Tex da Ventimiglia a Città di Castello, dedicata a Fernando Fusco, al quale rivolgo il nostro pensiero perché è stato un grande pittore, un grande autore, un grande disegnatore di fumetti, un grande uomo, buono, bravo, un uomo di altri tempi che oggi si sono persi un po', si è persa la razza, diciamo così. Abbiamo dedicato a lui il catalogo, faremo un breve ricordo perché con un applauso, non con altre manifestazioni, minuti di raccoglimento, eccetera, no, un bel applauso che si merita perché per noi è stato d'augurio dopo la prima mostra. Quest'anno quindi Tex, Tex è tutto tondo, diciamo così il personaggio dei fumetti più longevo d'Italia, circa 70 anni, creato da due grandi, Bonelli e Galeppini, che perdura nel tempo in maniera impressionante, perché pensare che un personaggio di fumetti duri da circa 70 anni c'è da chiedersi come mai, perché? Beh, noi non vorremmo rispondere a queste domande con frasi, ma con la mostra. La mostra annovererà circa 40 tra disegnatori, autori, sceneggiatori, artisti, case editrici che stanno lavorando o hanno lavorato per Tex. Vedrà le opere di Galeppini, il primo, fino all'ultimo è quella di Laura Zuccheri, l'unica donna che per ora ha disegnato Tex e che ancora non è uscita. Quindi ci saranno tavole originali di Tisselli che non è uscito, ancora non è pubblicato, di Laura Zuccheri. In mezzo, oltre 20 disegnatori, tra i più grandi disegnatori di Tex, io adesso non faccio l'elenco perché qualche uno dirà ma io sono più bravo di quell'altro, sono tutti bravissimi e vedrete le loro opere con tavole originali, con disegni originali, con cose bellissime. Nella mostra ci saranno anche delle scenografie che sono altrettanto belle. Io ieri ho visto dei pannelli alti 3 metri che non faranno vedere le finestre con delle scenografie del western che ognuno di noi in tenera età, giovane, eccetera, ma anche adesso continuano, i giovani di oggi a leggere Tex e vedono sulle pagine di Tex. 12 artisti italiani interpreteranno Tex e poi la chicca è questa che tra i vari autori tutti saranno rappresentati, ci saranno circa 400-500, io ancora il numero esatto non lo so dire, tavole e disegni di Tex. In particolare il Salone degli Specchi ci farà vedere il Tex di Magnus. Il Tex di Magnus è una delle, io credo, delle più belle opere disegnate su Tex, l'autore ci ha messo sette anni per farlo, ma non è che vi faremo vedere il Texone di Magnus, vi faremo vedere tutto ciò che c'è stato dietro, la preparazione delle tavole, dei personaggi, degli scenari di questo Texone. Per la prima volta in Italia verranno mostrate tutte queste tavole e sarà pubblicato, è già pubblicato, ma ancora non è, lo vedete in anteprima, Città di Castello, il catalogo di queste opere preparatorie insieme al catalogo della mostra fatta da noi. Io dico che valuterei questa mostra, la più bella mostra su Tex, o almeno la più grande, la più completa su Tex. Ci abbiamo anche una madrina, una giovane attrice di Città di Castello, giovanissima, alle prime armi, ma avendo avuto grandi madrine di Città di Castello, come la Lodovini, come la Rossi, eccetera, direi che auguriamo anche a questa, si chiama Irene Splendorini. Gianfranco, tu quando parli di Tex ti emozioni, ma mi vuoi spiegare il motivo? Perché ti ho intervistato più volte per altri autori, però l'enfasi che metti quando parli di Tex è un po' più marcata rispetto agli altri autori. È l'espressione di una grande cassa editrice, Labbonelli. Labbonelli sarà presente a Città di Castello con tutto il suo staff e dirigenziale, compreso l'attuale proprietario, Davide Bonelli, che, essendo un po' un carattere chiuso, non è che va a tutte le mostre, ma Città di Castello non rinuncia anche in ricordo del padre, al quale abbiamo dato il premio alla carriera, e venne anche quando si fece la bellissima mostra, non di Un uomo, un'avventura, che fu unica, ma una bellissima mostra su Dilan Dog. Insomma, io mi sono emozionato tante volte, perché, quando arriviamo all'inaugurazione, è veramente l'inaugurazione di un percorso, di un lavoro, certo sino, che dura 365 giorni. Qui dobbiamo ringraziare per questo Vincenzo Mollica, e oltre che, lo dirò dopo. Vincenzo Mollica, purtroppo, non sarà presente all'inaugurazione, perché, proprio finita la mostra di Venezia, ha dei problemi suoi personali, per cui deve assentarsi. Verrà durante il periodo dell'apertura della mostra, e non sarebbe male se ci riuscisse di fargli fare un incontro con il pubblico, senza rete, di Vincenzo Mollica, perché è una persona, credo, unica, un giornalista unico in Italia, sul suo settore. ma io anche da queste colonne vorrei ringraziare coloro che ci permettono di poter fare questa mostra. Dicenze, ecco, adesso si ritira fuori, beh, io devo dire che grazie alle istituzioni, Regione, Camera di Commercio, Comune, ci permettono, in particolare, vorrei sottolineare, la Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello, che siamo soliti nelle cose, scrivere mail sponsor e cose di questo genere, è veramente un aiuto di idee, di sostegno materiale, perché altrimenti le mostra così come la concepiamo noi, e indietro non ci si può tornare, ma anche tanti altri, dall'editoria di Petruzzi, Lucio Ciarabelli, l'amico Ciarabelli con la carta edite, voi vedete poi i risultati, la grifa che vi farà vedere delle scenografie fatte da loro e una caterva di personaggi, bellissimi, tanto che ognuno di loro quando riguarda questo lo prendo io e lo porto a casa, ecco, viene da dire così. Tra questi vi do in anteprima anche un tex a grandezza Duomo, che farà un ragazzo di Città di Castello, oramai la cronaca nazionale e tridimensionale, quindi è una cosa veramente, beh, se volete vedere qualcosa di bello venite alla mostra di tex e di Città di Castello. Un'ultima domanda, breve, perché il tempo a disposizione è terminato, ti richiameremo per una puntata di In Primo Piano, magari con il tuo staff al completo. Gianfranco, io credo che riuscire ogni anno a rimanere al top della qualità come eventi sia estremamente difficile, soprattutto in momenti di difficoltà economica come quelli che stiamo vivendo. Brevemente, ma come fate? mi chiamano l'accattone. No, veramente, dobbiamo dire che ci aprono diverse le ditte di Città di Castello, i personaggi, eccetera, ci sono sempre venuti incontro. Torno a ripetere, da noi con le nostre forze potremmo fare una mostra discreta, come ne esistono tante in Italia, di quelle che con dieci, ventimila euro si compara, si porta a Città di Castello, ecco fatto il lavoro, l'impegno mentre le nostre sono create, direi, vissute. Ogni boxe che voi vedrete è vissuto. L'amico Barrese c'è da cavargli tanto di cappello, qualche d'uno dovrebbe pensare di prenderlo, però non glielo diamo, sia ben chiaro. E io direi che siamo uno staff che ognuno ha la sua importanza e direi stai finendo, ho capito, ma fammelo dire, siamo una torre con tanti puntelli, basta che uno di questi puntelli non c'è più, la torre cade. Grazie ai miei amici. Grazie a tutti. Grazie.